Papi, abbiamo avuto il compito straziante di dover separare le nostre vite. Ok, io mi tengo gli LP e tu ti prendi i CD. Io prendo la macchina da scrivere e tu ti prendi il computer. Io prendo le azioni Aaron, tu prendi le azioni Microsoft e... Chi prende, cara in polpo? Io voglio solo un tentacolo. Ero talmente depresso che passavo tutto il tempo al bar.